La crisi di confartigianato La crisi di confartigianato La crisi di confartigianato La crisi di confartigianato Non è normale che gli artigiani subiscano un fisco che tassa il 68,3% degli utili lordi d'impresa, mentre ad esempio in Svizzera l'auliquota è del 30%. E ce n'è anche per l'Imu, non potete tassare i laboratori produttivi che sono la nostra prima casa.